Alessandro Meloni, box crossfit capo di sopra, Fall Series 2020 WOD 1, utilizzerò un RAW partendo da zero e due manubri da 22,5. Vado, voi, vado, vado. Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 8, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 9, 10. 10. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8. 6, 8, 8. 6, 8, 9, 10. 5, 7, 9. 6, 8, 10. 7, 9. 6, 8, 10. 6, 9. 6, 9. 5, 6, 8. 6, 9, 10. 2.51 Marco, togli la magnesite Marco, togli la magnesite e' esatto vai a lei andiamo 2 minuti ora 1.35 ora 1 2 1 minuto adesso 3 4 5 40 secondi 30 secondi 6 20 secondi 7 8 10 secondi dai Ale 9 dai dai 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1